Aspetta, lo sai Dottoressa Sì Ok, chiamiamo Ecco, attivata Allora Mi dica Presidente Dottoressa, prego, prego Può fare, dottoressa, può chiamare Aspettavo la registrazione Allora Ore 11 e 52 Armetta Assente Costantino Assente Cusimano Assente Gagliotto Assente Gottuso Assente Fiore Assente Megna Presente Puma Presente Candovalle Presente Scaffide Assente Presidente Puma Sì, dottoressa, vista la mancanza del numero legale rinviata alle 24 del giorno successivo. Grazie e buona giornata a tutti. Perfetto, grazie a voi. Buongiorno. La registrazione Sì Sì